Un'intera cucciolata di cagnolini appena partorita è stata messa in un sacco nero lanciata da un ponte, così sono stati abbandonati questi animali. È successo a Stia, in alto a Casentino, a ritrovare la cucciolata. Sono stati alcuni passanti che poi hanno consegnato i cagnolini ai volontari dell'EMPA. Purtroppo con il passare delle ore la maggior parte dei cani non ce l'ha fatta e proprio dall'EMPA del Casentino arriva all'appello affinché si possa raggiungere e arrivare ovviamente ad identificare il responsabile di questo grave gesto. In questo momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri a cui il sindaco di Prato Vecchio Stia ha sporto denuncia. Probabilmente a vederli così erano probabilmente pastori, pastori maremmani. Il problema è che erano stati partoriti lo stesso giorno, a volte ancora nella placenta con praticamente anche insetti insomma, per cui noi li abbiamo, la sera li ha presi subito il veterinario, li ha curati la prima sera, poi li ha distribuiti a noi volontari, alcuni volontari che si sono resi disponibili perché non è facile, perché ogni tre ore vanno allattati, cuccioli. Dal giorno dopo però purtroppo ne è rimaste solo una perché erano in condizioni veramente insomma terribili. E dall'EMPA arriva anche l'appello ad adottare gli animali che si trovano in canile, purtroppo gli abbandoni sono sempre di più. Senz'altro anche perché questo è veramente un gesto, ogni abbandono è un gesto brutale perché quando si abbandona anche un cane più adulto, più giovane, si lascia così, anche può morire di stenti, può morire sotto la macchina, ogni, cioè è proprio un atto di viaccheria in ogni caso, qualsiasi tipo di abbandono. Qui c'è proprio anche insomma lo spregio di buttarli con una busta, sapere che moriranno comunque veramente di malattia o comunque di stenti. C'è il penale, si spera che vengano trovati i proprietari, insomma coloro i responsabili che hanno fatto questo gesto. Non sarà facile però si spera che almeno insomma una volta si riesca a trovare un responsabile.